La piccola e il mercato in centro. Le prime schermaglie di campagna elettorale a Lecco sono sul futuro dell'area centralissima acquisita lo scorso inverno dal comune dopo decenni di trattative con le ferrovie. Dopo appello per Lecco, il candidato del centrodestra Peppino Ciresa a lanciare le proprie idee sul futuro della piccola. Se i lecchesi mi daranno fiducia, spiega, da gennaio 2021 il mercato cittadino del mercoledì sarà in centro. Come danni chiedono commercianti e clienti. Alla piccola si prevederà un adeguato spazio capace di ospitare alcuni eventi sportivi e musicali oggi realizzati sulle piazze centrali e sul lungo lago che sono fonte di chiusure della viabilità e di problematiche per la gestione del traffico. Ciresa lancia inoltre l'idea di collocare alla piccola biblioteca civica l'informa giovani. Oggi, dichiara, si trovano in luoghi poco fruibili. E infine l'ipotesi è anche quella di collocare una fermata del treno su misura per gli studenti che frequentano le superiori. Un piano che ricalca le proposte già lanciate dalla civica Appello per Lecco, soprattutto per quanto riguarda il futuro del mercato. E Ciresa non ne fa mistero. Mi fa piacere, conclude, che questa idea sia tornata recentemente oggetto di annunci elettorali da chi sostiene la giunta Brivio. Purtroppo però mi permetto di ricordare come il Comune non abbia mai sposato questa causa, se non recentemente perché è obbligato a causa delle prescrizioni sanitarie per l'emergenza Covid. Il centrodestra, conclude il candidato, ha intenzione di mettere in campo grandi progetti di trasformazione urbana e sociale per Lecco, ponendo attenzione al decoro urbano e alle manutenzioni puntuali trascurati in questi anni di giunta Brivio.